Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti. Oggi guardiamo un po' la situazione di mercato, situazione che può sembrare per alcuni drammatica ma non lo è affatto, infatti non bisogna farsi prendere dall'ansia, dalla preoccupazione quando il mercato scende e tantomeno dall'euforia quando il mercato sale. Quindi bisogna rimanere sempre lucidi e capire fino a dove può arrivare il mercato quando scende e fino a dove può arrivare il mercato quando sale. Quando noi riusciamo a fare queste considerazioni, riusciamo poi a sfruttare qualsiasi situazione di mercato. Ecco quindi oggi c'è stata una piccola correzione, questo non significa che non ci siano opportunità, anzi tutt'altro, quando succedono questi movimenti è proprio lì che si nascondono le vere opportunità. Infatti nel nostro canale strategie di trading D e O, che è una strategia che noi utilizziamo, ieri alle 12 e 14 avevamo individuato un trade che ci sembrava molto interessante, avevamo individuato delle aree dove poter comprare e dove poter poi vendere. Come vedete il prezzo si trovava qui intorno ai 3600 USDT, quindi era intorno ai 0,003 e 36. La prima area di buy, qui dove noi abbiamo piazzato il nostro primo ordine, è stata violata in un secondo momento, lo potete vedere successivamente. Abbiamo aggiornato, quindi dopo un'ora e mezza, il prezzo cosa ha fatto? Aveva risposto leggermente in quest'area, non era arrivato a target per un soffio, dopodiché è sceso ed è arrivata la nostra seconda area di buy, qui abbiamo poi appiazzato il nostro secondo ordine di acquisto e dopodiché il prezzo ha fatto qualcosa di incredibile. Come potete vedere, ha reagito in modo importante in questa zona perché non solo noi avevamo individuato questa zona come buona per piazzare degli ordini, quindi c'erano molti ordini di acquisto e di conseguenza il prezzo diciamo che si è impennato ed è partito verso l'alto. Adesso vi faccio vedere esattamente quanto ha fatto, aspettate che chiudiamo qui, quanto ha fatto è stata una spinta diciamo molto, adesso lo sto guardando con candelle giornaliere, possiamo mettere sulle 4 ore e sulle 4 ore possiamo andare a vedere e misurare quanto è stata la spinta di ieri. Potete vedere qua, guardate, praticamente, guardate, 44 se io arrivo qui è un 53% di impulso, pazzesco, un impulso avvenuto nel giro di 4 ore e noi ovviamente non abbiamo preso tutto ma siamo riusciti a fare un, allora nel nostro primo sell è un 22%, nel nostro secondo un 27% però dobbiamo calcolare che l'abbiamo comprato anche nel primo buy e quindi dal primo buy abbiamo fatto intorno un 14% e poi abbiamo fatto un 22%, quindi una media profitto del 18% anche se, insomma, siamo arrivati anche a molto di più però se calcoliamo e facciamo la media tra i diversi buy e diversi sell perché non facciamo solo un buy e nemmeno solo un sell, diciamo che è stata super super positiva se calcoliamo che d'altra parte il mercato stava scendendo, perciò noi nonostante il mercato scendesse siamo riusciti ad individuare grazie alla nostra strategia di EO un ottimo trade da fare un'ottima area dove piazzare i nostri buy e poi i nostri sell, non solo, oggi ha dato un'altra nuova entrata che però non è stata resa pubblica nel canale che è stata questa e realmente ha fatto un'altra spinta del 30% e averle prese tutte e due sarebbe stata una manna dal cielo e sicuramente seguendo in modo perfetto la strategia qui c'era l'entrata perciò entrata, ci sono state due o tre entrate di fila però ovviamente non si possono fare tutte anche perché le persone fanno anche altro nella vita dopo aver fatto un 20-25% diciamo che possiamo essere più che soddisfatti perciò non lasciatevi prendere poi dal panico quando il mercato corregge perché se avete la conoscenza e la consapevolezza potete tranquillamente sfruttare ogni occasione di mercato che il mercato vi presenti io con questo video vi saluto, volevo solo rendervi consapevoli appunto che nel trading è importante avere una conoscenza e una strategia vi saluto, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video o all'interno del canale Telegram dove postiamo le nostre idee di trading ciao alla prossima ciao